Ben ritrovati! Oggi parliamo di Dejan Kuluseski, perché in tanti mi avete chiesto una fotografia sul suo momento, una fotografia su questi chiacchiericci a livello di mercato che stanno coinvolgendo proprio lo svedese, e quindi credo che in questa pausa sia cosa buona e giusta analizzare anche la sua situazione. Sicuramente stiamo parlando al momento di un percorso estremamente lacunoso. Chi segue questo canale sa perfettamente come io sia un kulusesker, cioè nel senso che credo nelle potenzialità di questo ragazzo. Vuoi perché è un classe 2000, quindi ha 21 anni, vuoi perché seppur a targhe molto alterne, secondo me ha dimostrato il potenziale necessario per immaginare che possa fare il tanto agognato salto di qualità. Poi va fatta la riflessione dal punto di vista tecnico e tattico. Dal punto di vista tecnico, se parlando di Kuluseski, soprattutto a livello di tecnica individuale, parliamo di un giocatore che ha ancora delle carenze mostruose. Basti pensare quando il Gis spalla la porta, quando viene raddoppiato, quando gli avversari lo portano sul piede. Debole. Quindi in questi aspetti è chiaro che l'ex giocatore del Parma debba ancora migliorare tantissimo e soprattutto dovrà farlo se vorrà avere una carriera ad altissimo livello. Perché se giochi nei top club non vieni neanche raddoppiato, vieni sistematicamente triplicato. Non puoi pensare di avere sempre 40-50 metri di campo aperto, non puoi pensare sempre di sprigionare unicamente la velocità, non puoi pensare di fare sempre la solita giocata, non puoi pensare quindi di ragionare così se vuoi diventare un grande giocatore. È vero che a Parma, in un sistema molto attendista, all'epoca allenato in posto da Roberto D'Aversa, Kuluseski si è esaltato perché il Parma ragionava, mi difendo, poi riparto grazie alle mie forti ali, perché aveva due frecce, basti pensare che a destra agiva Kuluseski, a sinistra solitamente Gervinio, e infatti non è un caso che Kuluseski in quella stagione dal Parma abbia fatto grandissime cose, e non è un caso che tra parte fissa e potenziali bonus l'Atalanta sia riuscito a venderlo per circa 44 milioni alla Juventus. Quindi la Juve ha effettuato una scommessa su Kuluseski. Quando prende, tra l'altro lo svedese, lo fa in piena era Maurizio Sarri, e lo ricorderete, quel gennaio in cui la Juventus con un blitz di Fabio Paratici soffiò Kuluseski all'Inter, che era molto, molto interessata, e quindi forse in quel periodo storico la Juve pensava che Kuluseski potesse diventare una pedina importante per il 4-3-3, sviluppato da Maurizio Sarri. Poi sappiamo bene come sono andate le cose, Sarri è stato messo alla porta e la Juventus con quel sistema di gioco non ha praticamente mai giocato né con Andrea Pirlo né tuttora con Massimiliano Allegri. Quindi c'è l'attenuante, secondo me, del modulo, perché Kuluseski, io continuo a sostenere, che difficilmente riuscirà a diventare una seconda punta top club. Kuluseski, per me, è un giocatore che può fare molto bene nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1, deve giocare esterno in attacco e in quella posizione del campo può mettere poi in mostra il suo bagaglio tecnico, che è fatto di velocità, che è fatto di rientrare sul sinistro per poi cercare la conclusione, che è fatto anche di rientrare sul suo sinistro per poi mettere un assist, perché Kuluseski, secondo me, a tratti anche geniale, però da qui non si scappa 4-3-3 o 4-2-3-1. Se decidi, come legittimamente poi hanno deciso di fare, sia Andrea Pirlo che Max Allegri, di attuare un altro sistema di gioco, significa che A, probabilmente Kuluseski a momento non viene visto come il giocatore ideale che ti possa portare anche a cambiare il sistema di gioco, perché se io poi so che Kuluseski mi diventa un potenziale fenomeno, il sistema di gioco vado anche a cambiarlo, se posso metterlo nella sua comfort zone, se posso fare in modo che poi ne benefici lui e quindi la coralità. Se questo passo non è stato effettuato né da Andrea Pirlo, né da Max Allegri, significa che entrambi gli allenatori vedono in Kuluseski un giocatore ancora con delle carenze piuttosto oggettive. C'è da dire che, secondo me, nella passata stagione Kuluseski è stato anche responsabilizzato oltre misura, si è ritornato a giocare gli ottavi di Champions da titolare come seconda punta, ha giocato un'infinità di partite in quel ruolo, in alcune partite ha fatto anche molto bene, basti pensare che è stato eletto il migliore. Nella finale di Coppa Italia ha vinto contro l'Atalanta, quindi è il percorso che finora secondo me è stato anche un po' forzato. Si è andato un pochettino a snaturare le caratteristiche di questo giocatore, che però d'accanto suo poi alla Juve ti darà svegliata, nel senso che questo è un discorso che lo ribadisco tantissime volte, coinvolge i magazzinieri ma anche i giocatori, quindi se Andrea Pirlo e Max Allegri ti fanno giocare da seconda punta, da seconda punta devi provare a dare il meglio e soprattutto devi proporre un percorso di crescita a livello tecnico-tattico. Sekuluseski ha ancora delle lacune, spalle alla porta, piede debole e tutte quelle situazioni che abbiamo visto sicuramente significa che anche il ragazzo sta andando un po' a rilento nel processo di apprendimento. Però credo anche, e qui veniamo anche al succo del video, che la Juventus prima di prendere una decisione drastica su suo conto ci voglia pensare molto bene, innanzitutto perché è stato un investimento, l'ho detto prima, che potrebbe arrivare a toccare complessivamente 44 milioni e poi Kuluseski a 21 anni può diventare un rimpianto. Adesso io non voglio tirare fuori i mostri di sacchi come Thierry Henry all'Arsenal perché era tutt'altra storia, o come l'esempio un po' più recente di Kingsley Coman venduto a cuore di Gerard Bayer Monaco, però a me risultava e risulta tuttora che nell'ultima sessione estiva diversi top club abbiano chiacchierato con la Juventus per studiare potenziali scambi con coinvolto in prima linea Kuluseski, quindi significa che questo giocatore a livello internazionale ha un po' di appeal, è un nazionale comunque svedese, giocatore che al Parma l'ha fatto molto bene, che anche la Juventus l'anno scorso anche per causa di forza maggiore ha collezionato tantissime presenze, quindi un classe 2000 può rivelarsi sempre un boomerang, può darsi che tu decidi di vendere Kuluseski e Kuluseski faccia una carriera mediocre, questo fa parte anche del mondo del calcio, ma c'è anche serio rischio che magari tu vendi Kuluseski, Kuluseski viene messo nel suo ruolo congeniale e Kuluseski diventa un top player, quindi c'è un'alta componente di rischio. Poi, questo va ben specificato, bisogna sempre contestualizzare le operazioni, la Juventus quando vende Comanna aveva bisogno di quei soldi, aveva fatto altri acquisti e doveva rinforzarsi in altre due parti. Se la Juventus decidesse magari di privarsi di Kuluseski, magari perché bisogna sicuramente di fare cassa e di andare magari su una prima punta, adesso stiamo ancora nel mondo delle ipotesi, quindi io dico sempre è facile giudicare, noi cronisti per primi ci mettiamo poi anche a sparare alle volte senza condizioni di causa, un po' per fare audience, però le operazioni vanno sempre contestualizzate e va sempre compreso cosa ti serva in quel determinato momento. Certe cessioni a distanza di anni possono sembrare folli, ma nell'immediato quando le compi sono magari le uniche vie percorribili per fare in modo che tu possa centrare altri obiettivi, poi il tempo giudica sempre la bontà o meno delle mosse. Quindi, io dico che sicuramente se stiamo a guardare anche l'impiego in questa stagione nei Kuluseski, sicuramente non parliamo di un'intoccabile, di un'imprescindibile, di un giocatore che sta facendo particolarmente bene, è partito da titolare però ragazzi due volte, se non erro, a Napoli perché mancava tutta la squadra e a Milano perché sulla falsa riga della passata stagione serviva un giocatore che potesse andare sulla prima costruzione nerazzura, quindi in pressione su Brozovic e così diventa anche difficile giudicare un calciatore. Poi è verissimo che ci sono stati ingressi impalpabili, altri invece sono stati molto più convincenti, basta pensare sempre a rimanere in stagione. All'ingresso col Torino, dove colpisce il palo, all'assist che fa per Locatelli, contro la Sampdoria e altre situazioni in cui Kuluseski si è dimostrato sicuramente sveglio. Altre volte no, però io credo che giocare così a intermittenza, entrare sempre a 15-20 minuti dalla fine, magari in un ruolo dove non esalta le tue caratteristiche, anche per un giocatore talentuoso come Dejan, che ribadisco è un classe 2000, non è semplice. Quindi, secondo me, in vista del mercato di gennaio bisogna fare attenzione. Non dico che la Juventus stia per mettere Kuluseski nella lista dei trasferibili, però all'insegna sempre di una materia che cambia dall'oggi al domani, con i gusti che cambiano, con le strategie tecnico-tattiche che cambiano. Secondo me è da monitorare questa situazione perché bisognerà anche poi capire la volontà e il diretto interessato. Io resto del parere che con questo genere di cammino, con questo genere di utilizzo, Kuluseski difficilmente migliorerà in questa stagione, ma in generale da Juventus. Questa è la mia opinione. Allegri ha già letto più volte che se dovesse fare un cappetto Kuluseski lo metterebbe alternativo a Dybala, quindi significa che in questo sistema di gioco Kuluseski con Allegri può giocare principalmente o esclusivamente come seconda punta, però lì io credo che le lacune siano ancora tante e non ci sia il tempo per fare in modo che Kuluseski possa crescere rapidamente. E se Kuluseski non cresce rapidamente è destinato poi a diventare nel tempo sempre più criticato e sempre più mercato. Vedremo ragazzi, io dico che su gennaio, su questa situazione, si debba fare molta attenzione in relazione al fatto che la strategia della Juventus potrebbe anche poi cercare in qualche modo all'insegnante della sostenibilità di andare a cercare quindi, scusate il gioco di parole, una prima punta. Se magari bisogna una prima punta ne sacrifichi una seconda, perché Kuluseski a testa di Allegri è una seconda punta e si fanno quindi le valutazioni del caso. Insomma non diamo per scontato né che Kuluseski resti né che parta. A gennaio mi sembra un fronte in grande evoluzione e poi la differenza come sempre verrà fatta dalle ipotetiche offerte che giungeranno. Io non mi aspetto che a gennaio anche per gli altri club ci sia moneta sonante, però un giocatore come Dejan Kuluseski con queste caratteristiche, che ha 21 anni, può anche fare gola e può valere anche la pena di assumersi un rischio patrimoniale. Vedremo ragazzi cosa succederà, ma occhi ben aperti sull'ex giocatore del Parma. Un caro abbraccio e iscriviti al canale.